L'intento della maggioranza è quello di minimizzare la situazione critica con l'obiettivo di tranquillizzare gli andriesi, ma la realtà è ben più grave, con tagli di numerosi servizi previsti nel piano di riequilibrio e con l'aumento significativo delle tasse. A ribadirlo sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Andria, che hanno organizzato un incontro in risposta a quanto dichiarato dal primo cittadino Nicola Giorgino nel corso della conferenza stampa di venerdì 30 novembre. In quell'occasione il sindaco, illustrando le linee programmatiche del piano di riequilibrio approvato, ha voluto tranquillizzare gli andriesi, sostenendo come nessuna catastrofe esistia, abbattendo sulla città. Si parla di nessun tipo di sciagura, nessun tipo di conseguenza, la maggioranza tende a minimizzare e a rassicurare gli andriesi. In realtà ci sono delle conseguenze dirette, ben precise. Ci sono aumenti delle tariffe che vanno dal 100% al 300%. Mi riferisco in particolare al servizio Mensa, che è stato completamente eliminato, alle tariffe per i buoni pasto che sono aumentati di queste percentuali che vi ho detto, alla TOSAP, alla pubblicità, quindi a tutta una serie di servizi. I servizi di segreteria, per esempio, a tutti quei servizi che il Comune offriva e che ora i cittadini andriesi dovranno pagare molto di più. Da una parte abbiamo il sindaco che fa la conferenza stampa per spiegare che non è successo niente, che va tutto bene, dall'altra ha eliminato l'ufficio relazioni con il pubblico. Quindi un cittadino, se vuole relazionarsi con l'ente, non ne avrà la possibilità. Non solo polemiche e discussioni fra le opposizioni, da tempo delle fratture sono emerse anche all'interno della stessa maggioranza. Quella di Forza Italia che fa il teatro, fa il teatrino, l'ha fatto nell'ultimo Consiglio Comunale, ma l'aveva fatto già prima, con il teatrino che si regge su Nino Marmo e il sindaco, che si corteggiano e si fronteggiano, uno fa sgarbi all'altro. Quindi questi comunque continuano a stare insieme a reggere questa maggioranza e questa amministrazione che, l'ho già detto, prima va via, meglio è, e più tempo darà a chi arriverà dopo per risistemare Andria, perché davvero Andria e gli andriesi soprattutto non meritano questa amministrazione.